ok ragazzi allora ho appena finito di editare un episodio veramente fantastico la prima volta che non edito di notte ma edito di giorno quindi mi raccomando solo per questo mettete un bel mi piace 2000 like anche domani che domenica vi porto un altro episodio voglio mantenere questa routine voglio essere costante quindi mi raccomando siateci e niente buona visione divertitevi per crediti account di fifa 19 passate dal sito in descrizione con il codice IAS avrete un ulteriore 5% di sconto su tutti i vostri acquisti mi raccomando passateci Ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video sul mio canale oggi episodio numero 3 della carriera allenatore con il Bologna mi raccomando continuate a sostenere al massimo questa serie se volete vedere gli episodi giornalieri come sempre vi ricordo che dovete arrivare almeno a 2000 mi piace 2000 mi piace capisco che insomma la serie vi sta piacendo la state guardando e vi porto un altro episodio stiamo per arrivare ai 50.000 iscritti mi piacerebbe tanto arrivarci quindi andiamo a simulare la partita contro il Wolfsburg vinciamo addirittura 4 a 1 con il gol sul finale di Gemayli quindi una grande vittoria del nostro Bologna contro un avversario come il Wolfsburg e quindi andiamo subito con Plizzarri che è pure in scadenza di contratto comunque costa poco quindi direi che sulla fiducia possiamo anche andare a buttarci direttamente sul giovane italiano e io direi di non offrire proprio nessun incambio perché comunque il Milan non penso che accetterebbe giocatori di quel valore di mercato quindi onde evitare io provo ad offrire 600.000 euro come prima offerta ripeto in scadenza di contratto 790.000 euro io comunque devo tenermi più basso possibile perché voglio fare tanti acquisti 700.000 euro hanno accettato veramente molto molto bene non so quanto prenda di stipendio sinceramente non me lo dice qua no me lo dice ok quindi posso anche andare a trattare il contratto per andare a chiudere subito all'inizio dell'episodio il primo acquisto ovviamente mettiamo sporadico dovrebbe accettare ok molto molto bene 3 anni no no facciamo almeno 4 anni almeno 4 anni fino ai 22 anni per il momento ignoriamo la clausola recessoria e gli offrirei un contratto da 8.000 euro senza bonus senza nulla e offerta equa molto bene arriva il primo acquisto che è plizzarri dal Milan andiamo a chiudere anche per berge così non ci pensiamo più e sarà un acquisto molto oneroso ma state tranquilli che è un giocatore che non penso vedrete in altre carriere non lo so sinceramente però era un giocatore che mi ero già diciamo messo in mente da tempo quindi lo volevo assolutamente provare in questo fifa e andiamo a offrirgli quindi il contratto e poi chiuderemo anche per questo grande talento che non prende neanche tantissimo di stipendio questa è una cosa molto buona perché ciò poi ne andrà di guadagnato per altri acquisti visto che gli diamo anche De Maio e quindi indubbiamente andremo a guadagnarci nel budget stipendio ok 17.150 andiamo ad accettare molto bene quindi in pratica abbiamo preso plizzarri e berge e abbiamo perso però De Maio che era praticamente il nostro difensore centrale più forte esatto vedete che non lo abbiamo più direi di avanzare e poi andrò a vedere chi comprare come difensori centrali visto che abbiamo venduto anche gonzalez ci arrivano 6 milioni ci arriva un'offerta molto interessante per creci che è un altro di quei giocatori che vorrei dar via perché è anche la in realtà ormai fuori dai progetti del Bologna l'Atletic Bilbao dovrebbe avere abbastanza soldi quindi se lo vuole io all'Atletic Bilbao chiedo 9 milioni e mezzo vediamo cosa dicono 8 milioni e 6 più il 5% se salgono a 9 milioni io accetto e accetto proprio volentieri e ok molto bene molto bene hanno accettato sono molto contento di come è andata la trattativa detto ciò direi di andare a puntare sul primo giocatore che vorrei assolutamente nel mio Bologna Filippo Romagna grande talento difensore centrale del Cagliari ex Juve direi subito di andarlo a prendere costa relativamente poco e soprattutto lo voglio perché lo scambierei con un altro dei miei difensori sperando che ne abbiano bisogno e darei Nowen Paz che è proprio dello stesso overall vale 2 milioni quindi offrendo magari un milioncino o 2 milioni in più dovrebbero ok 3 milioni e 2 ok provo 2 milioni più Nowen Paz quindi 4 milioni in totali e hanno accettato molto molto bene abbiamo fatto secondo me una trattativa molto intelligente e direi subito di chiuderla perché così mi troverei un quarto difensore che nel giro di secondo me mezza stagione poi diventerà un giocatore importante forse anche il nostro miglior difensore assolutamente turnover molto molto bene e andiamo quindi subito a chiudere per Romagna che sarebbe quindi il terzo acquisto di questo di questo nostro episodio e quinto del nostro mercato veramente che stiamo secondo me gestendo molto bene stiamo prendendo giocatori molto talentuosi molto buoni ma non sono ancora quei giocatori che saranno importanti tra virgolette in questa stagione i veri acquisti quelli top top li vedrete prossimamente quindi state connessi perché stanno arrivando dei colpi che ancora non state vedendo i nomi che ho in mente ma ancora non state vedendo ora abbiamo la partita da simulare contro il Francoforte la semifinale della coppa internazionale europea ho fatto dei cambi alla formazione ho messo dentro Gumni ho messo Romagna a plizzare in panchina sperando che poi li faccia entrare comunque stiamo perdendo dentro c'è che un cunco ha segnato è don sa molto molto bene mi piacerebbe andare avanti in questa coppa più che altro per i soldi che riesce ad offrirci non per altro e quindi spero di riuscire a battere il Francoforte per andare alla finale per farci più soldi cavolo ci aveva fatto il gol abbiamo perso i rigori 5 e 4 incredibile comunque sono soddisfatto perché contro squadre comunque sulla carta più forti di noi abbiamo fatto comunque una bella figura ci arrivano 3 milioni ma soprattutto ci arriva un'offerta di 10 milioni di base per Mattia destro dal Nizza e io direi subito di andare a trattare 12 milioni se mi li accettano facciamo ok molto bene abbiamo fatto secondo me un affare formidabile cioè 12 milioni ci riesco a prendere un attaccante molto molto più forte spero che destro accetti ovviamente il contratto avanzando ci arrivano due offerte attenzione perché una è ancora per destro dal bar ma ottio vado a trattare chiedo sempre 12 milioni così mal che vada almeno una delle due squadre ce lo prende se ci offrono ovviamente meno di 12 milioni io insomma rifiuto anzi io provo 12 milioni e mezza addirittura magari impazziscono accettano no 12 milioni se rifiutano rifiuto ok hanno accettato 12 milioni molto bene almeno così come vi ho detto abbiamo un'alternativa mentre per Elander che è uno dei difensori migliori che abbiamo e che non vorrei dar via ci offrono 7 milioni e 7 lui vale 7 milioni e io direi di rifiutare perché non vorrei vendere tutti i miei difensori abbiamo già venduto Gonzales e De Maio Elander per me può restare tranquillamente ci arriva anche un'altra offerta per Polly attenzione dal Begiktas 11 milioni un'offerta davvero interessante io direi di trattare ci dicono che possiamo salire fino ai 13 milioni io ovviamente punterei anche qualcosina in più comunque un 77 di overall che ha grande esperienza e quindi io proverei 14 milioni sono 5 milioni più di quello che vale ok restano sugli 11 proviamo a salire a 13 che è il massimo che ci consigliava il gioco vediamo un po' ok hanno accettato molto bene devo essere sincero stiamo piazzando dei giocatori a cifre veramente molto alte avanzando con il calendario siamo arrivati quasi a fine luglio siamo riusciti a cedere sia Mattia Destro che Polly in due ci abbiamo guadagnato alla fine una ventina di milioni che sono veramente tanti per Destro e Polly e a questo punto andando a vedere il nostro budget come vedete lo abbiamo veramente rimpolpato siamo sui 45 milioni di euro che sono veramente tantissimi ok ragazzi allora eccoci qua nel lab mercato il giocatore che avevo in mente per l'esterno destro da prendere come titolare era Caramò purtroppo però come vedete è appena arrivato dicono che è appena arrivato anche se in realtà sappiamo che non è appena arrivato però non si può prendere quindi purtroppo Caramò lo dobbiamo aspettare ci proverò ovviamente il prima possibile quindi come diciamo rimpiazza anche se in realtà è un giocatore comunque molto forte voglio provare Emre Morro un giocatore che fino a poco tempo fa era considerato un grandissimo talento lo è ancora aveva solo 21 anni 74 di overall e soprattutto è molto utile può fare tutti i ruoli dell'attacco e quindi io direi di provare a imbastire una trattativa per questo giocatore col Celta Vigo ovviamente sarebbe un giocatore fantastico da usare molto forte e proverei a mettere dentro beh nessuno degli attaccanti non avrebbe senso non so se ho qualcuno da offrire sinceramente che ne valga la pena no direi di fare direttamente un'offerta per il cartellino proviamo a stare molto bassi 8 milioni salgono a 13 milioni e il 10% ok sappiamo già che non ci stanno comunque chiedendo tantissimo io comunque faccio 10 milioni col 10% però penso che comunque non lo venderò mai o comunque non ho in mente di venderlo saliamo a 10 milioni e mezzo vediamo un po' che cosa ci dicono molto bene devo riflettere va bene va bene direi di avanzarci stiamo avvicinando anche la prima partita per Emre Morro ci hanno chiesto 13 milioni e 2 13 senza la clausola è buono dai me lo sto sudando sto giocatore incredibile io però non mollo io nelle trattative sono veramente recidivo non mollo mai 13 milioni e mezzo hanno accettato alleluia ragazzi ci abbiamo fatta andiamo subito a prenderlo perché non voglio più pensarci voglio subito provarlo e andiamo ovviamente va bene importante da me giocherà comunque titolare con si alterneranno comunque lui e Okonko facciamo 4 anni perché 5 solitamente da un po' di complicazioni ignora la clausola 25 mila senza bonus senza nulla dovrebbe accettare ok molto bene molto bene preferisco far così che con i bonus quindi arriva il nostro sesto acquisto abbiamo acquistato secondo me un giocatore dalle grandissime potenzialità e non ci fermeremo qui assolutamente ora mi manca un difensore centrale forte da mettere titolare e una punta veramente che ci faccia riscaldare il cuore e l'attaccante di cui vi sto parlando è Patrick Cutrone mamma mia che spettacolo di giocatore non si può dire nulla ha subito un upgrade buono però per la carriera è ancora un giocatore abbastanza abbordabile ovviamente bisognerà spendere molto però ragazzi ha delle statistiche fantastiche cresce tanto e ha 4 stelle skill ma di che stiamo parlando andiamo subito a provare a prenderlo finché ho i fondi per acquistarlo abbiamo 30 milioni quindi dovremmo starci tranquillamente io proverei a metterci dentro se lo vogliono potrei mettere anche Falcinelli per risparmiare un po' di più vediamo un po' se riusciamo a mettere dentro Falcinelli lo riusciamo a mettere ci chiedono 21 milioni molto bene molto bene mi dispiace per Falcinelli perché mi sarebbe piaciuto tenerlo però ovviamente se arriva Cutrone non avrebbe quasi mai giocato con anche Palassio quindi facciamo una controfferta io Falcinelli comunque lo valuto 8 milioni Cutrone facciamo 25 andiamo magari sui 15 milioni to proviamo sto basso però non è anche tanto a dire il vero e hanno deciso di accettare molto molto bene siamo andati a pagare Patrick Cutrone secondo me una sciocchezza forse potevo stare anche un po' più basso però non lamentiamoci perché comunque stiamo andando a prendere uno che sappiamo che nel giro di una stagione fa il devasto quindi andiamo a chiudere il contratto io gli offrirei cruciale perché sarebbe il nostro migliore attaccante e accetta ovviamente sta facendo un passo indietro per il momento ma se accetta il nostro progetto potrà fare veramente tanta roba e togliersi molte soddisfazioni vediamo quanto ci chiede di ingaggio ok non ce lo chiede io gli offro visto che arriva dal Milan 75 mila senza bonus senza nulla e ha deciso di accettare molto bene ragazzi cioè che vi devo dire ragazzi vi sto vi sto portando al Bologna dei giocatori che penso che non si sarebbero mai visti Cutrone, Emre, Morre, Romagna, Plizzari in questo episodio e anche Berge quindi 5 acquisti in questo episodio veramente incredibile e abbiamo ancora a disposizione 15 milioni e quindi andiamo a fare l'allenamento che dovrebbe essere quello l'ultimo prima della partita ho messo ad allenare gli stessi tranne Cutrone che ho giunto per ora al posto di Orji e avanziamo perché ci aspetta fra pochi giorni la prima partita contro il Cremona che in realtà sarebbe la Cremonese vediamo le email non ci arriva nulla e vabbè Svanberg ci chiede di giocare ovviamente mi porterò in panchina anche qualche giovane in modo da capire un po' il livello della squadra ma intanto io vorrei provare a prendere un difensore centrale che non è uno giovanissimo ma comunque 24 anni è d'utile perché può fare anche il CDC ha delle buonissime statistiche come potete vedere qua 92 di forza e soprattutto forza e velocità messa insieme per un difensore centrale è una buona accoppiata e non costa neanche molto quindi io direi di provare non con la clausola ma provare a trattare non ho nessuno da offrire in realtà quindi proviamo a fare un'offerta da 6 milioni comunque un 75 di overall e hanno deciso di rifiutare ok ci riproverò comunque tra una settimana ma vi dico che è un giocatore che vorrei avere nel mio Bologna quindi niente io direi a questo punto che possiamo anche andare a giocare questa partita e invece no l'episodo stava venendo troppo lungo quindi praticamente è come se ho diviso le registrazioni in due parti se questo video ripeto raggiungerà 2000 mi piace domani vi porto il prossimo episodio in cui vedremo sia questa partita di Coppa Italia che le prime due giornate di campionato quindi mi raccomando spacca di mi piace il video passate da Instagram e si vede al canale e noi ci vediamo domani con un nuovo episodio bella ragazzi